Allora, buon pomeriggio a tutti. L'obiettivo di oggi è quello di riepilogare velocemente quanto visto nella lezione asincrona che ho pubblicato il venerdì scorso e provare a applicare in pratica alcune di queste informazioni e vedere come queste informazioni e queste classificazioni delle misure possono andare a influenzare il modo in cui visualizziamo i dati. Allora, riepilogando in maniera molto sintetica parliamo di misurazione che è il processo con cui noi andiamo a assegnare in maniera oggettiva dei valori che servono per andare a caratterizzare degli attributi di entità. Quindi abbiamo diversi aspetti. Abbiamo innanzitutto il punto di partenza è l'entità. Quindi che cosa, quali elementi, oggetti noi andiamo a misurare. Il secondo aspetto è quale attributo di questi oggetti andiamo a misurare. Quindi se l'entità sono le persone, che caratteristica di queste persone andiamo a misurare? L'altezza, il colore degli occhi, il colore dei capelli, l'età. Quindi entità e attributo. L'altro aspetto è che noi cerchiamo di caratterizzare e descrivere l'attributo di questa entità utilizzando una procedura il più possibile oggettiva e ripetibile che permetta di assegnare, data una certa entità, un valore a il suo attributo, che descriva il suo attributo. Questo è il passaggio fondamentale di qualunque misura. Quindi in generale ogni volta che abbiamo a che fare con delle misure dobbiamo andare a vedere quali sono le entità che stiamo cercando di caratterizzare, quali sono i loro attributi e verificare la procedura che andiamo a seguire. Io parlo in generale di valori, ma diciamo che ci sono diversi aspetti che possono essere assegnati, quindi è difficile assegnare sempre quelli che sono valori numerici. Quindi non è detto che i valori che noi andiamo ad assegnare alle entità sia per forza numerico. Quindi potrebbe essere anche un simbolo, un'etichetta, una parola, eccetera. Quindi è bene tenere in considerazione questo aspetto. Non vi ripeto tutta la parte di teoria della misura. L'unica cosa che vi sottolineo è che la teoria della misura più diffusa, non esiste una sola, ma in generale quella più diffusa e quella più adottata, è una teoria della misura che si chiama rappresentazionale, ovvero che ha come obiettivo quello di permettere di rappresentare nel modo più accurato possibile quello che noi osserviamo nel mondo che cerchiamo di misurare. Non dico mondo reale perché magari stiamo cercando di misurare, non so, delle caratteristiche di un programma, che quindi di reale, di concreto, di fisico non ha molto. Ma l'idea è che se noi abbiamo una qualche forma di comprensione di cosa sono le entità, come si comportano, la loro rappresentazione in termini di misura deve cercare di rispettare il più possibile quelle che sono le nostre osservazioni empiriche. e l'altro aspetto importante da tenere presente è che queste osservazioni empiriche ci danno delle misure che hanno un senso soltanto nella misura in cui si mettono in relazione con altre. Quindi la misura a sé stante, da sola, non ha nessun significato particolare. la nostra operazione di misurazione permette di replicare in un sistema formale le relazioni che esistono all'interno di un sistema empirico, ovvero quello che noi andiamo a osservare. Quindi è fondamentale ricordarsi che le misure da sole non sono molto significative, sono significative quando permettono di essere osservate in un sistema di relazioni. Non so quanti di voi siano appassionati di Guerre Stellari, spero molti, sicuramente nel tema d'esame ci sarà almeno una domanda su uno dei film della saga di Guerre Stellari, quindi preparatevi. Allora, c'è un'affermazione famosa di uno dei personaggi, che è un solo, che dice ho appena fatto la rotta di Kessel in 12 parsec. E cosa vuol dire questo? Se noi andiamo a prendere la nave di Anzolo, sappiamo che la possiamo caratterizzare, quindi l'entità e la nave, la caratteristica è sostanzialmente la lunghezza di questa rotta e il valore è 12. Ecco, di per sé è poco informativa questa informazione. L'informazione diventa informativa quando mettiamo questo valore in relazione con la stessa misura fatta su un altro esemplare di questa entità, che invece di impiegarcene 12, ne impiega 20. Quindi abbiamo due entità dello stesso tipo, andiamo a caratterizzarle entrambe rispetto allo stesso attributo e a questo punto sappiamo che una è meglio dell'altra. L'idea di qualunque sistema di misurazione è di mantenere questa sensazione che noi abbiamo osservando il sistema empirico in termini di valori, eventualmente numerici, ma non sempre sono numerici i valori. Quindi l'idea fondamentale è che in base alle caratteristiche di queste relazioni che noi possiamo osservare in un sistema empirico, vengono definite diverse scale di misura. Quindi la scala di misura mi dice sostanzialmente che tipologia di relazioni io voglio andare a rappresentare utilizzando le mie misure. Quindi quando parliamo di misura noi intuitivamente pensiamo al valore. In realtà dobbiamo tenere presente che quel valore ha senso nel contesto di una serie di relazioni che noi vogliamo andare a rappresentare. Quindi le misure di lunghezza, ad esempio, hanno senso nella misura in cui noi vogliamo andare a confrontare due lunghezze diverse. E quindi dire che una è più lunga dell'altra, un oggetto è più lungo dell'altro, oppure che un oggetto è due volte, tre volte, una volta e mezzo, sette volte e mezzo più lungo dell'altro. Quindi siamo in grado di mettere in relazione le lunghezze. Le scale, le diverse scale di misura sono sostanzialmente quelle che vediamo qui, queste cinque. Quella più semplice è la scala nominale, in cui sostanzialmente noi vogliamo andare a misurare, quindi assegnare dei valori, delle etichette, a delle entità per mantenere quella che è una classificazione, uno schema di classificazione. Quindi prendiamo delle persone, prendiamo delle auto, nella nostra esperienza quotidiana, nel sistema empirico, sappiamo che un certo insieme di persone, un certo insieme di auto, appartengono alla stessa categoria, e quindi vogliamo che la misura ci permetta di mantenere questa classificazione. Per cui, ad esempio, se parliamo di auto, abbiamo un insieme di auto che appartengono alla stessa categoria, e questo è quello che noi osserviamo nel sistema empirico, nella realtà, per cui l'operazione di misura assegna lo stesso tipo di etichetta. Attenzione che qui io ho messo un'etichetta, quindi una serie di caratteri, potremmo assegnare, invece di un'etichetta, un valore, un numero. Categoria 1, 2 e 3. Ok? In generale, tutte le volte che io ho una misurazione, posso tranquillamente trasformare questo tipo di misurazione in un'altra equivalente, facendo quella che si chiama una trasformazione ammissibile. Quindi, se invece di chiamare city car, SUV e coupé, le chiamo utilitaria, autosportiva e auto fuoristrada, funziona lo stesso. Ok? L'importante è che questo tipo di misurazione mi permetta di mantenere la relazione. La relazione che è sostanzialmente è una classificazione, ovvero sono in grado di dire che due elementi sono della stessa categoria oppure si trovano in due categorie diverse. E questo noi applichiamo delle scale di misura di tipo nominale nel caso in cui abbiamo una comprensione di quello che è il fenomeno che vogliamo andare a descrivere è molto base, nel senso che riusciamo a fare semplicemente delle categorie, nulla di più. Un po' più complicate sono le scale che permettono di andare a definire i sistemi di tipo ordinale. Quando? Ovvero riusciamo a dire che uno è maggiore di un altro. per cui abbiamo quelli che si chiamano delle scale ordinali che sono in grado di andare a descrivere delle relazioni o meglio a preservare delle relazioni di tipo ordinale. Quindi di nuovo se andiamo a misurare l'attributo consumo di carburante passo medio alto. Il slide li vediamo in inglese li potremmo mettere in italiano in francese in giapponese come volete l'importante è che l'ordine venga mantenuto. il fatto di avere una scala ordinale mi consente anche di fare delle operazioni un po' più sofisticate sulle misure per cui posso andare a ordinare gli elementi posso andare a vedere la frequenza con cui ho elementi di una certa categoria cosa che potevo fare anche per la scala nominale ma posso fare un ranking quindi posso andare dato un insieme di oggetti che misuro a trovare qual è il maggiore o il minore e una volta che ho fatto un ordinamento di elementi posso andare a fare le operazioni che si chiamano di quantili ovvero andare a identificare il quarto migliore il quarto peggiore il 10% più basso il 10% più alto l'1% più elevato questo lo posso fare se ho una scala di tipo ordinale ovvero se nel mio sistema che voglio andare a descrivere ho una relazione ordinale il passo successivo è quando io ho una scala di tipo intervallo quindi quando ho un sistema di intervalli dove posso andare a confrontare i vari intervalli a questo punto oltre ad avere la proprietà di ordinamento ho la possibilità di avere delle operazioni che sono sostanzialmente transitive per cui posso andare a definire la scala di intervallo che funziona se vado a misurare degli intervalli quindi ad esempio l'anno in cui ho introdotto un certo tipo di modello è misurata su una scala di intervallo perché in realtà 2015 non è semplicemente il numero dell'anno ma è sostanzialmente l'intervallo che è trascorso dall'anno in cui è stato introdotto a un anno di riferimento l'anno zero per noi è chiaro che se cambiamo il calendario e utilizziamo il calendario cinese che è su base lunare invece che solare l'anno non sarà il 2015 quindi le date sono normalmente un qualcosa che è espresso su una scala di tipo intervallo il passo successivo ho un sistema in cui io posso andare a concatenare gli elementi quindi ho quello che si chiama un sistema estensivo non entro nel dettaglio ma sostanzialmente vado a definire una scala di tipo ratio dove l'elemento fondamentale è che esiste un elemento zero ovvero in una scala di tipo ratio esiste la totale assenza di un certo attributo e quindi ho decisamente un tipo di rappresentazione molto più significativa se pensiamo all'anno l'anno zero che vi menzionavo prima è un anno puramente convenzionale io potrei tranquillamente misurare le date invece che utilizzando l'anno zero a partire dall'anno 1000 ok o l'anno 2000 per cui metto soltanto le decine e le unità dell'anno e il resto non cambia assolutamente nulla manteniamo esattamente le stesse proprietà che avevamo prima un aspetto fondamentale è che il punto di riferimento di una scala di tipo interval di solito è puramente convenzionale mentre invece lo zero in una scala di tipo ratio sta a indicare che effettivamente nel sistema che voglio andare a descrivere esiste un qualcosa che è la totale assenza di una certa caratteristica ok a questo punto lasciamo perdere la scala absolute che è molto particolare su cui magari spendo due parole dopo a questo punto date queste scale se voi pensate a scusate voglio allora vediamo un po' se riesco a fare una un poll ovvero una microindagine allora la domanda è su che scala si misurano i voti degli esami universitari nominale ordinale intervallo oppure rapporto oppure ratio ok dovrebbe essere attivato la risposta dovreste vederlo lascio giusto qualche minuto diciamo due o tre minuti così avete il tempo di pensarci un attimo e di rispondere ok 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 Allora c'è qualche piccola differenza sulle slide, nel senso che le slide contengono qualche informazione in più e qualche esempio un po' più dettagliato. Sì, rispetto alla versione mostrata nella lezione. La lezione Tossomato semplificava un po' e descriveva meno gli aspetti dei tipi di relazioni presentate, quindi era una cosa semplificata. Grazie. 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 Vi lascio ancora 30 secondi per provare a rispondere e poi proviamo a fare un ragionamento assieme. Grazie. 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 Allora, non avete votato tutti, ma direi che chiudo qui. ok, dovreste vedere il risultato ve lo mostro anche qua che dovrebbe essere più facile da vedere allora, diciamo che il 60% di voi è convinto che sia di tipo ratio il 20%, in realtà il 21% e il 21% parità tra ordinale e intervallo allora, per capire di che tipo di scala si tratta possiamo andare a ragionare su che tipo di relazioni esistono effettivamente come noi vediamo le relazioni che possono esistere in termini di voti che cosa andranno a rappresentare i nostri voti il ragionamento lo possiamo fare dall'alto quindi scusate se riesco a eliminare questo ok dall'alto, quindi dal nominale cioè è davvero più semplice dalla nominale verso il basso ratio perché? perché sostanzialmente più andiamo verso il basso verso le scale più sofisticate più andiamo ad aggiungere dettagli quindi normalmente una scala ratio è in grado di rappresentare anche le cose che rappresenta una scala di tipo nominale scala di tipo ratio è in grado di rappresentare però delle relazioni che siano più sofisticate quindi se partiamo dalla prima scala nominale sostanzialmente una scala nominale ci permette di andare a distinguere entità diverse ovvero due esami sostenuti che hanno due voti non so 25 e 30 sono diversi ovvero sono in categorie diverse ragionevolmente sì ok prendere 30 o prendere 25 sono due cose diverse e il voto sostanzialmente va a indicare che cosa che qualunque cosa stiamo misurando la preparazione degli studenti è effettivamente diversa ordinale ordinale ci dice che un certo voto riflette quella che è una preparazione più o meno elevata dal punto di vista degli studenti quindi la scala ordinale ci dice che chi prende 30 o un esame in cui si prende 30 riflette una preparazione maggiore dell'esame in cui si prende 25 e effettivamente questo è un qualcosa di ragionevole ok? almeno nelle intenzioni una scala di tipo intervallo invece mi sta a suggerire che abbiamo la possibilità di andare a confrontare degli intervalli ad esempio la differenza che c'è tra chi ha preso 20 e chi ha preso 25 è la stessa differenza che c'è tra chi ha preso 25 e chi ha preso 30 cosa cosa credete cosa ne pensate questa è un po' più è un po' più dettagliata come come rappresentazione secondo voi negli esami che avete sostenuto finora esiste allora nella pratica no in teoria sì non è esprimibile soltanto da un numero sì non è detto che esista questa differenza se per ipotesi io avessi 30 esercizi tutti della stessa difficoltà e tutti con lo stesso punteggio un punto ciascuno la differenza tra chi prende 20 e chi prende 25 vuol dire 5 esercizi fatti non fatti e i 5 esercizi oltre che portano dal 25 al 30 quindi questo potrebbe forse essere una forse l'approssimazione più più vicina a quello che è una scala di tipo intervallo esami fatti così non so quando ero studente io non si facevano adesso non credo che sia cambiato molto ok e quindi non è detto che noi abbiamo in termini di di voti la possibilità di andare a descrivere quello che è un sistema ovvero il livello di preparazione degli studenti in cui le differenze sono quelle una scala di tipo rapporto va ancora oltre e quindi oltre a avere queste differenze tra gli intervalli mi dice che la differenza tra chi prende 27 e chi prende 30 è del 10% di preparazione in più o se prendiamo invece che 27 e 30 24 o 30 è un 20% di preparazione in più qualunque cosa sia la preparazione ok quindi questo è ancora più difficile è molto difficile andare a quantificare questi aspetti quindi ragionevolmente non è detto che un voto di un esame universitario effettivamente rappresenti un aspetto che è così dettagliato come ci potrebbe far pensare una scala di tipo ratio allora sicuramente di tipo ordinale potrebbe essere ma non è detto che sia difficilmente lo è in pratica di tipo intervallo è ancora meno probabile che sia una scala di tipo ratio allora l'osservazione è giusta però con una scala puramente ordinale non si può andare a calcolare la media che invece facciamo con gli intervalli esattamente il grosso limite è che se è una scala di tipo ordinale non posso calcolare la media perché sostanzialmente non posso sommare dei valori che non so quanto siano distanti l'uno dall'altro mentre invece se è una scala di tipo intervallo sì allora so che ogni valore dista dall'altro di una certa quantità e quindi la media la posso calcolare in maniera corretta e quindi altra osservazione nel caso dei voti lo zero significa assenza di preparazione questo è tipico della scala ratio sì allora io non ho mai dato saputo di qualcuno che ha preso uno zero e non sono sicuro che l'assenza di preparazione corrisponda allo zero in generale per cui sì teoricamente sì se io do la votazione a partire da con 30 esercizi tutti uguali zero vuol dire che ho un'assenza di preparazione o comunque meno di quanto rilevabile con un singolo esercizio però nella pratica non è quasi mai così quindi a rigore se noi non siamo sicuri che la scala sia tipo intervallo non dovremmo poter andare a calcolare la media e per cui se volete l'unica operazione che riusciamo a fare in maniera formalmente corretta nel senso che rispecchia quello che è la comprensione o del fenomeno il livello di preparazione degli studenti potremmo andare a calcolare la mediana ovvero se abbiamo tanti voti li mettiamo in ordine uno dopo l'altro e andiamo a prendere quello che sta a metà il fatto che i voti minori di 18 siano tutti insufficienti beh in realtà quello è un è un passaggio successivo nel senso che una volta che ho un voto che mi dà una valutazione dell'esame se il voto è pari o superiore a 18 significa che l'esame è superato per cui è una decisione che io faccio dopo sulla base del voto quindi non è e se volete è un è una decisione presa sulla base della misura e non è la misura stessa nonostante questo diciamo che da qualche anno si calcola la media ok e non la mediana la media però presuppone che per l'appunto ci sia questa differenza di voti ovvero che ogni voto in più corrisponda a uno stesso quantità di preparazione aggiuntiva quindi diciamo che noi facciamo finta di crederci e quindi calcoliamo la media una misura sicuramente più appropriata è quella che ci dice che la mediana è un certo valore dico la mediana però potremmo anche calcolare altri valori ok se invece di dividere a metà la sequenza dei nostri voti lo dividiamo in in quattro gruppi ho primo quartile secondo quartile che equivale dalla mediana e terzo quartile e quindi invece di dare un unico numero ho i tre numeri e questo mi dava già un'informazione in più forse addirittura più ricco di avere semplicemente la media la media qual è il vantaggio della media è che tiene conto di tutti i valori mentre invece la mediana tiene conto soltanto nel dettaglio dei valori centrali quindi è un po' più ricca in termini di informazioni ma non è detto che rappresenti in maniera corretta il fenomeno che stiamo cercando di descrivere la media è anche inquinata dal fatto che i voti minori di 18 vengono eliminati sì anche se vuol dire che andiamo a considerare soltanto i voti degli esami superati se la media dovesse tenere conto di tutti i voti anche degli esami falliti in alcuni casi potrebbe essere un problematico ok però di nuovo si basa su una scelta che io faccio dopo quindi decido superato o non superato una volta che gli esami sono superati io vado a prendere diciamo la media che può comparire su un documento ufficiale è la media ma non calcolata su tutti i voti ricevuti ma soltanto sui voti superati sugli esami superati per cui sì se vogliamo inquinata non descrive la preparazione però è un processo formale che può avere senso quindi d'ora in poi quando vi chiederanno la media obiettate e fornite la mediana il grosso vantaggio della mediana è che se vi è andato malissimo un esame mentre invece avete voti relativamente alti quell'esame che è andato malissimo sostanzialmente non influenza minimamente la media scusate la mediana mentre invece influenza la media provate a calcolarla e poi mi dite se preferite l'una oppure l'altra allora però la mediana con 16,30 e 14,18 è la media del 30 come chi ha preso tutti i 30 sì sì allora sì perché in questo caso io assumo che il voto non sia in grado di andare a descrivere accuratamente la distanza per cui se io dico che la mia scala è una scala ordinale sto affermando che non sono in grado di andare a dire che la differenza che c'è non so da 18 a 27 è più o meno grande rispetto alla distanza che c'è tra il 27 e il 30 sto dicendo che non sono in grado di capire se è più grande quella distanza o no e quindi se non dico che non sono in grado di apprezzare quella distanza è ovvio che prendere una serie di 18 o prendere una serie di 27 sono delle cose che sono leggermente diverse ma non non mi permettono di andare a discriminare abbastanza quindi dipende molto da quella che è il sistema che io voglio andare a descrivere se invece io sono sicuro che o comunque con buona approssimazione ogni punto in più equivale a la stesso livello aggiuntivo di preparazione allora sì posso fare la media deve esserci dietro una una comprensione diversa di quello che è il il fenomeno che voglio andare a descrivere ok allora breve riepilogo anche su quello che è il processo che dovrebbe portarci a definire una misura allora molte volte noi dobbiamo andare a visualizzare delle informazioni ma non siamo noi a definire la misura in altri casi invece se abbiamo sotto controllo il processo possiamo noi andare a definire la misura quindi decidere che cosa andare a misurare e poi come andarlo a visualizzare il punto di partenza è che io ho delle esigenze informative e quindi ho in corrispondenza di queste esigenze informative uno o più costrutti un costrutto è la definizione astratta di una di un di un qualche aspetto magari non descritto in maniera precisa dato un costrutto io posso che fa riferimento a una certa entità posso andare a identificare degli attributi di quell'entità e andare a calcolare quelle che si chiamano le misure di base attenzione dato lo stesso costrutto ok il voto ok scusate il voto è già una misura il livello di preparazione il livello di conoscenza della materia eccetera posso andare a definire una misura ad esempio il voto dato secondo qualche criterio e quindi vado a calcolare quella che si chiama una misura di base elementare nel senso che osservo il compito e vado a prendere il valore e poi posso applicare delle funzioni di misurazione che mi possono trasformare il voto in qualcos'altro ad esempio immaginando di avere 30 domande vero falso o 30 domande in cui ho la possibilità di scegliere la risposta corretta o meno la misura di base è quante risposte corrette ho dato la funzione di misurazione potrebbe semplicemente essere una funzione che prende il numero di risposte corrette le divide per il numero totale di domande e moltiplica per 30 quindi la misurazione è qualcosa che io faccio direttamente su l'entità ad esempio il compito la funzione di misurazione è una piccola elaborazione che sostanzialmente parte da questa misura di base o eventualmente ne combina più di una e successivamente va a costruire il risultato un altro tipo di misura di funzione di misurazione potrebbe essere una funzione che partendo da non so un numero di risposte corrette su uno scritto più un punteggio dato a un elaborato va a calcolare un voto complessivo andando a pesare in maniera diversa le risposte e l'orale quindi la base measure la misura di base è un qualcosa che io calcolo direttamente su la mia entità la funzione di misurazione è quello che eventualmente combina o scala o fa altre operazioni di base e molto semplice di solito e mi produce quella che è la misura il voto se vogliamo tornare al nostro esempio di prima il passo successivo è una volta che ho una misura vado a costruire un indicatore ecco l'indicatore normalmente che cosa fa aggiunge una serie di criteri di interpretazione mi dà un range di riferimento per cui se abbiamo i voti dei nostri esami ecco che l'indicatore potrebbe aggiungere il fatto che i voti dal 18 in su significano che l'esame è superato quelli inferiore al 18 significano che l'esame sostanzialmente è fallito quindi l'indicatore non è che aggiunga altro ma sostanzialmente mi dà un filtro di interpretazione mi permette di leggere la misura in maniera corretta oppure se immaginiamo di avere invece di un unico compito tutti i compiti di un appello l'indicatore che potrei avere io come docente è la media dei voti di questo appello e non so la deviazione standard il numero di insufficienti il numero di lodi ok tutte che arrivano da un insieme di misure omogenee quindi l'indicatore mi dà qualche cosa in più e mi permette di interpretare sostanzialmente va a rispondere a quello che era la mia esigenza informativa di partenza quindi mi dice il livello di preparazione del singolo piuttosto che dell'intera classe a seconda di insomma del contesto in cui mi pongo e da chi lo va a vedere una volta che io ho l'indicatore e quindi ho questo piccolo quadro interpretativo che sta attorno alla oppure alle misure posso andare a presentare questo indicatore in quelli che si chiamano prodotti informativi che quindi rispondono all'esigenza di partenza tutto questo è un qualcosa che dovremmo fare come processo per andare a costruire misure indicatori che siano corretti e che rispondano a delle esigenze effettive in generale ricordatevi che è fondamentale partire dalle esigenze informative perché queste esigenze vanno poi a determinare come io vado a interpretare le misure quindi come costruisco poi l'indicatore a parte delle misure se io non ho un'esigenza specifica la mia interpretazione della misura può essere più o meno corretta in generale ricordiamoci che quando abbiamo a che fare con delle misure è bene valutare la loro robustezza ovvero uno se sono comprensibili riescono a descrivermi un fenomeno che mi interessa e funzionano i voti universitari dopo secoli diciamo così uso sono facilmente comprensibili il costo di elaborazione quanto costa andare a produrre una certa misura a volte io non uso una misura ma ne uso un'altra alternativa perché quella mi costa troppo oppure non la calcolo da zero ma la calcolo come incremento rispetto al valore precedente vi faccio un esempio molto concreto se io voglio andare a calcolare che so il tasso di inflazione oppure il livello di disoccupazione della popolazione di una certa nazione una possibilità è quella di andare a chiedere a ogni persona in età lavorativa se lavora non lavora sta cercando oppure no e farlo ragionevolmente ogni settimana ogni mese ovviamente fare una cosa del genere è improponibile quindi che cosa si fa non vado a utilizzare una misura diretta ma vado a usare una misura non calcolata su tutta la popolazione ma calcolata su un campione quindi vado a selezionare un campione di persone a livello nazionale e chiedo a loro e da lì vado a immaginare che il resto della popolazione si comporti di conseguenza un altro aspetto importante è quanto l'oggetto che la misura che sto valutando sia significativa ovvero quanto risponda alle esigenze informative non è detto che qualcosa che sia facilmente comprensibile vada anche a rispondere a quelle che sono esigenze informative è facile e a volte qualcuno lo fa in maniera poco trasparente di andare a dare una misura che è facilmente comprensibile che però non è esattamente quella che risponde alla domanda devo andare a verificare la frequenza con cui varia la misura e ragionevolmente anche il ritardo con cui ho questa informazione l'esempio tipico che stavamo vedendo nella scorsa lezione era il ritardo che ho tra la misura che ho a disposizione e effettivamente la data di di insorgenza dei sintomi prima di arrivare ad avere quella misura passano due settimane prima che sia stabile ok per cui quello è un altro aspetto significativo quanto è affidabile quella misura e infine l'altro aspetto è quanto è strutturata quindi quanto va effettivamente a descrivere aspetti reali strutturati all'interno del fenomeno che io sto andando a misurare quindi se mi interessa ad esempio il numero di asintomatici esattamente come dicevamo una volta scorsa non è detto che quel numero sia significativo e non sia ambiguo probabilmente potrebbe essere ambiguo quindi questi queste cinque caratteristiche fondamentali di una di un indicatore mi permettono di valutarlo eventualmente sceglierne uno piuttosto che un altro ok allora a questo punto vorrei con voi andare a prendere allora questo non questo ma bensì quest'altro ok eccoci qua allora questi sono i dati il repository di tab con i dati prodotti dal protezione civile su andamenti covid quindi qui arrivano i dati un po' rielaborati che arrivano dall'istituto superiore di sanità eccetera questi sono i dati che poi vengono utilizzati in buona parte delle tutte le attività decisive vi metto qui in chat il link questi sono i dati che sono forniti allora provo a ingrandire leggermente così riusciamo forse a leggere anche un po' meglio ok le tabelle di dati hanno queste informazioni quindi ad esempio la data è la data in cui questa informazione è stata sostanzialmente acquisita lo stato il paese stato nel senso di paese di riferimento è un codice alfanumerico tra l'altro qui è definito anche lo standard quindi c'è uno standard che si chiama ISO 3166 trattino 1 che descrive quelli che sono i codici univoci di tre lettere degli stati mondiali su che scala è misurato questo beh direi che è indubbio che questa è su una scala nominale codice della regione è un codice numerico ad esempio 13 credo sia abruzzo ma non sono sicuro questo pur essendo un valore numerico non è un valore tipo intervallo o ratio ok quello è un valore ma neanche ordinale è un valore puramente nominale quindi attenzione a non farvi trare in inganno dal fatto che è un valore numerico ok perché sostanzialmente è una codifica standard di quello che è il nome della regione non c'è un ordinamento tra le regioni ok posso avere un ordinamento alfabetico posso avere un ordinamento geografico quindi da nord a sud da sud a nord da est a ovest o da ovest a est ma è una mia scelta eventuale non c'è nessun ordinamento intrinseco delle regioni e quindi e poi abbiamo vabbè l'attitudine e la longitudine il punto di riferimento della della regione e poi qui abbiamo tutti i vari numeri quindi ricoverati con sintomi terapia insensiva ospedalizzati isolamento domiciliare totale positivi eccetera e questi sono di nuovo numeri ok e questi su che scala sono misurati assoluta esatto questa è una scala assoluta perché effettivamente il numero di persone è il numero di persone non mentre su una scala di tipo rapporto io posso moltiplicare per un qualcosa e ottenere una rappresentazione che è tutto sommato equivalente quindi non so se parliamo di lunghezze posso passare da centimetri a pollici moltiplicando per due virgola non mi ricordo che cosa e sono due misure assolutamente equivalenti e due significative in questo caso io il 3 non lo posso misurare per moltiplicare per per due dicendo che invece di misurare le persone misuro il numero di braccia che sono ricoverate ok quindi non funziona quello è quel numero lì e non può essere diverso quindi tutte le volte che io ho un conteggio di entità questa è la scala assoluta ok quella che non abbiamo menzionato prima sulla scala assoluta io ho esattamente un conteggio e quindi sono numeri e posso in base a questi fare tutte le operazioni che voglio ok effettivamente un numero in più o in meno vale esattamente come l'altro i rapporti li posso fare ok quindi la grossa differenza rispetto alla scala di tipo rapporto è che qui l'unità di misura è unica ok mentre invece nella scala di tipo rapporto io posso utilizzare tante diverse unità di misura alternative le variazioni anche queste sono dei risultati di una differenza e poi sostanzialmente ci sono le stesse informazioni di prima ok altro esempio vediamo se riesco a trovarvelo eccolo qua ecco questi sono le sempre il foglio excel che abbiamo visto la volta nella scorsa lezione mi sono perso il cursore ingrandisco un po' allora qui ci sono i vari fogli e i relativi contenuti allora abbiamo la data ricordatevi che le date sono di tipo intervallo ok non posso dire che il il 2020 sia il 20% in più rispetto al 2000 ok perché perché non c'è un'unità di riferimento un un riferimento assoluto uguale per tutti data di prelievo di nuovo è una data il numero di casi anche qui siamo a un tipo assoluto nome regione di nuovo è una una variabile di tipo nominale non esiste un ordinamento quando dobbiamo andare a rappresentare una scala di tipo scusate un attributo di tipo nominale non c'è un ordinamento predefinito se ci sono delle etichette potrei utilizzare un ordinamento che è quello alfabetico se voglio andare a cercare qualcosa cerco in ordine alfabetico ed è più facile un'altra possibilità è non ordine in base all'attributo nominale ma ordine in base all'attributo correlato che potrebbe essere il numero di ricoverati quindi faccio sostanzialmente un ordinamento invece di rappresentare i valori in maniera alfabetica o in altro modo non significativo i dati sono qui praticamente tutti uguali ecco stato clinico stato clinico è suddiviso in queste questi quattro livelli asintomatico lieve paroci sintomatico severo e critico e questa invece è una scala ordinale dove indico la gravità dei sintomi da asintomatico fino a critico quando ho a che fare con delle misure che sono di questo tipo quindi sostanzialmente ordinali e allora l'ordine è dato e dettato dalla scala stessa come abbiamo visto la volta scorsa nei casi per le regioni forse ecco qua vi ricordate in un caso avevamo avuto l'ordinamento alfabetico perché tra le regioni non ci sono non c'è un ordinamento particolare e poi avevamo trasformato e avevamo avuto un ordinamento non legato al nome della regione ma bensì al valore associato quindi ai casi se vado a prendere lo stato clinico vedete che ho gli stati clinici per fasce d'età a questo punto i livelli da sintomatico a severo o asintomatico fino a scusatemi qui abbiamo 20-29 vedete qua sono ordinati in maniera alfabetica cosa che non ha minimamente senso però questo è una tabella con i dati quindi è poco rilevante quello che invece è rilevante è quando io vado a mostrare questi dati perché se io li metto come asintomatico critico lieve porcisintomatico e severo non ci capisco nulla è ovvio che a un estremo dovrei avere l'asintomatico l'altro estremo dovrei avere il critico e quindi questi numeri qui ordinati così non ci dicono niente ok se li voglio ordinare vado a creare un nuovo foglio qui vuoto li ordino per ci guardate li coverto il numero ricordatevi il problema che abbiamo visto la volta scorsa a questo punto l'ordinamento è asintomatico e il primo ok poi abbiamo lieve poi abbiamo paucisintomatico severo e critico messi così hanno un senso perché su questa fascia d'età vuol dire che questo qui è uguale scusate questo valore qui è uguale a questo diviso la somma di tutti questi numeri 0,63 lo facciamo in percentuale vuol dire che il 64% è asintomatico nuovo potrebbe essere sottostimato ma diciamo che almeno il 64% è asintomatico non so quanti di voi abbiano familiarità con Excel in generale una cosa molto comoda da fare con Excel è quella di andare a copiare le formule per cui se io copio questa formula ottengo dei valori che sembrano molto strani cioè il 14 non è il 100% ok il 244 non è il 95% cosa è successo è successo che copiando la formula tutti i riferimenti sono stati aggiornati quindi questo qui vedete che fa il rapporto tra B14 che è questo valore qui 14 e la somma di questa cella e tutte quelle che seguono ok questo è ovviamente un errore perché perché io in realtà vorrei fare mettere la percentuale tra il valore della cella che sta a fianco e la somma di questo intervallo quindi da B10 a B14 e questo intervallo di cui faccio la somma non deve cambiare perché è sempre lo stesso il denominatore uguale per tutti come faccio a fare in modo che la copia di una formula non mi aggiorni tutti i dati la risposta è che devo andare si può fare con i primi due valori e copiare no perché se io copio sul secondo valore il terzo di nuovo mi sballa quindi il modo per farlo correttamente è andare a indicare che il riferimento B10 e B14 è assoluto e non relativo allora quando io metto B10 Excel presuppone che quel riferimento lì sia relativo ovvero essendo stato inserito nella cella C10 vuol dire che B10 fa riferimento alla cella subito a sinistra ok per dire voglio fare un riferimento che sia assoluto e non relativo posso mettere il dollaro quindi B10 B$10 B$14 mettiamolo così dollaro B dollaro 10 e dollaro B dollaro questo significa che quei due quelle due celle la prima e l'ultima del range che io voglio andare a sommare sono esattamente quelle e se copio la cella non devono essere modificate sono riferimenti assoluti quindi a questo punto se io faccio copio questo qui in tutte queste celle qui sotto quello che ottengo è delle percentuali che sono un po' più ragionevoli ora qui non è lo 0% perché abbiamo troncato ma se vado ad aumentare eccolo qui è lo 0,04% ok piccolo dettaglio in realtà in questa copia a me basta dire che è assoluto non la colonna che tanto è sempre uguale ma semplicemente la riga quindi a me interessa che 10 e 14 restino sempre uguali quindi in teoria qui potrei scrivere B$10 e B$14 il che vuol dire che se copio quella cella in alto o in basso 10 e 14 non cambiano se la copio a destra di nuovo 10 e 14 non cambiano ma può cambiare C per cui B diventa C D E eccetera quindi di questo coordinato della cella il 10 è assoluto il B invece è relativo anche così ovviamente se io vado a copiare ottengo sostanzialmente lo stesso risultato e se vado a sommare questi valori ottengo ovviamente il 100% ok ora è ovvio che voi potete anche fare a meno di utilizzare dei riferimenti assoluti il problema è che se andate a copiare una cella 5-10 volte tutte le volte dovete andare a correggere la formula ok quindi è decisamente più comodo andare la prima volta che scrivete una formula a mettere assoluti quindi i dollaro dove è opportuno e poi fare la copia dopo tranquillamente ok ok non mi pare ci siano altri commenti da fare rispetto a questi contenuti nel senso che era qualche esempio di di formula di di scusate di dati altri dati che abbiamo qua sono ad esempio il sesso e quindi qui abbiamo di nuovo categorico le fasce d'età le fasce d'età tendenzialmente sono ordinali ok abbiamo visto la volta scorsa eccoci qua le fasce d'età non sono tutte uguali ok 0-9 10 20 29 30 39 queste sono in realtà tutte giuste rispetto al al grafico che abbiamo visto online qui in realtà le fasce d'età sono tutte 10 anni quindi la differenza tra una fasce d'età e quella successiva è sempre la stessa e quindi non è puramente ordinale ma potremmo dire che è intervallo salvo questo 90 oltre 90 che un po' ci scombina ok con questo diciamo che finisce il nostro riepilogo sulle misure quindi ricordatevi in generale che è importante capire il tipo di misura che state trattando per capire anche come poterla rappresentare come poter sintetizzare come poter andare a fare le medie ad esempio cercate di ragionare su quello che è il tipo di misura di conseguenza la potete andare a rappresentare nella maniera più corretta direi che con questo abbiamo chiuso io domani vi pubblico una lezione registrata di riepilogo su la statistica descrittiva immagino che almeno metà delle cose che vi dico siano note ma giusto per rinfrescare un po' la memoria che utilizzerete un po' anche nell'esercitazione di giovedì giovedì ci sarà un'esercitazione ok dovreste avere già ricevuto l'email con tutti i riferimenti il riposito i git eccetera eccetera le esercitazioni almeno queste prime esercitazioni saranno curate dal dottor Diego Monti che vi guiderà nell'andare a fare questi esercizi l'esercizio il primo sarà sostanzialmente qualcosa da fare con Excel ok quindi iniziamo con uno strumento che è molto molto semplice e poi man mano che andiamo avanti e vedremo cose un po' più sofisticate riusciremo a apprezzare meglio le limitazioni che ha questo strumento e anche i vantaggi e la velocità con questo direi che per oggi chiudo domanda va bene LibreOffice direi di sì non ci sono caratteristiche particolari mi pare non ricordo ma mi immagino di sì allora cambia magari qualche nome di funzione però ad esempio avete visto che io ho la versione inglese di Excel quindi probabilmente quello che avete voi buona parte di voi è in versione italiana quindi non c'è sum ma c'è somma diciamo che nell'esercitazione ci sono le varianti di 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 inglese che italiano i nomi delle funzioni tendenzialmente sono gli stessi l'unica cosa è forse non sono sicuro che ci sia il pivò e sia implementato nello stesso modo però 90% sì direi di sì faccio una verifica veloce e nel caso in cui in un libro office non vada bene ve lo segnalo però direi che non ci sono problemi domani no domani vi carico un riepilogo in vista dell'esercitazione di giovedì ok quindi un così un sommario di statistica descrittiva quindi concetti che dovreste già conoscere ma giusto per rinfrescare le idee e venerdì invece vi presento vi pubblico poi le lezioni per la settimana prossima ok tendenzialmente da questa settimana in avanti tranne forse un'eccezione il lunedì ci sarà lezione quindi come adesso in diretta mentre invece giovedì ci saranno esercizi quindi aumenteremo significativamente la parte pratica a partire da questa settimana perfetto direi che con questo vi saluto noi ci rivediamo lunedì e invece giovedì avrete esercitazione di laboratorio virtuale buon pomeriggio a tutti e arrivederci